Sì, è un discorso che parte da lontano. A Salerno la sezione è presente da 23 anni, svolge questo lavoro di volontariato, di ascolto delle persone che sono in difficoltà seria, che spesso, anzi che sempre, non vengono accolti dalle banche, per cui non sanno come risolvere i loro problemi. Quindi dall'ascolto si prende carico dei problemi di queste persone, sia da un punto di vista economico, ma alcune volte, anche da altri punti di vista, possono essere quelli della dipendenza, perché il problema va risolto alla radice. Il fenomeno dei caravattari purtroppo è sempre in aumento, anche se non si dice spesso. È un fenomeno che viene sottovalutato e che spesso non trova un adeguato risalto attraverso i media. Il convegno vuole mettere proprio un accento su questo problema e in particolare vuole dare spazio alla prevenzione, coinvolgendo 12 istituti, 12 licei, quindi i giovani. Proprio con questo primo premio si dà la possibilità di far riflettere i giovani su queste problematiche. Invece no, noi oggi con questo convegno che si terrà l'energia abbiamo dimostrato invece che ce la possiamo fare, ci sarà il primo premio in memoria di padre Massimo Rastrelli e organizzeremo questo convegno diviso in due momenti importanti. Un primo momento che è dedicato ai ragazzi, infatti avremo la partecipazione di 12 scuole, più di 350 ragazzi, a cui andremo a fare informazioni e prevenzione sulla ludopatia. Io lo dico da medico, la ludopatia è una malattia perché è stata definita tale anche dal Ministero della Salute, richiede delle terapie cognitivo-comportamentali e in molti casi anche delle terapie farmacologiche per poter combattere la depressione derivante dal gioco d'alzardo. Mentre il passato per noi il gioco era un momento ludico, di svago, un momento di crescita, oggi invece è diventato una malattia. Purtroppo anche attraverso internet abbiamo tantissimi adolescenti che giocano d'alzardo. Quest'evento poi peraltro è stato voluto fortemente anche dall'Associazione Prima Luce con il dottore Gaetano Memoli che ha collaborato all'evento e la seconda parte invece che avverrà di pomeriggio alle 14.30 avremo una tavola rotonda con i professionisti di questa città, con avvocati, con magistrati, con commercialisti dove andremo a discutere di usura, andremo a discutere sulle nuove prospettive della legge 108 del 1996, sul sovraindebitamento e come si può risolvere e come si può andare incontro alle famiglie. I professionisti che parteciperanno a questa tavola rotonda avranno la possibilità anche di avere dei crediti formativi, quindi noi facciamo informazione e cultura. Grazie. Grazie.